Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi collezionandoli tutti. La puntata di oggi sarà dedicata interamente al collezionismo, ma un collezionismo molto particolare. Infatti ho avuto l'occasione e il piacere di ospitare per una chiacchierata Leo Chiolinchio, un ragazzo, un content creator, di cui ultimamente ho visto, mi sono divorato proprio tutti i video che ha pubblicato, che si occupa principalmente di una cosa, ha una missione. Fare i full set delle console portatili Nintendo. E apprezzo particolarmente i video di Leo perché traspare, oltre a una grandissima passione, anche grandissimo studio, una grandissima conoscenza necessarie per, insomma, intraprendere una missione del genere. Io da questa conversazione ho imparato tantissimo, ho visto un sacco di pezzi mostruosi e spero, insomma, che anche voi possiate trovare degli interessanti spunti di riflessione. Purtroppo ci sono stati dei piccoli problemi di audio, però, insomma, ho sistemato più o meno tutto quanto in post. Comunque, qualità poraccia al 100% come al solito. Io vi lascio alla chiacchierata. Mi raccomando, oltre a supportare il canale, andate anche a vedervi i video di Leo Chiolinchio perché troverete veramente... Vi si aprirà un mondo, non dico altro. Io ringrazierei pure Autoggi Retro Games per sponsorizzare questo video e se vi viene fame di Gameboy sapete dove andare. E niente, supportatemi, supportatemi, ma soprattutto datemi gli sordi. Sigla! Ciao, ciao. Per chi non ti conoscesse, Leo, anzi, Leo Chiolinchio, che per me è un nome difficilissimo da pronunciare, quindi per me sarai Leo, sappilo. Va bene, ciao, vabbè. Sono molto felice di averti qua perché in realtà seguo i tuoi video da un po', ma ultimamente l'algoritmo che ogni tanto funziona, funziona bene. Me li spamma in particolare perché nell'ultimo periodo mi sono riavvicinato molto al collezionismo Gameboy. Ultimamente mi capiti sempre in homepage con questi video assurdi che io proprio adoro tantissimo, dove sostanzialmente mostri la tua collezione, molto spesso con dei video tematici lunghissimi, ma che apprezzo proprio per questo, dove fai vedere una cosa che a me incuriosisce tantissimo, ovvero dei full set molto specifici. E la cosa che apprezzo di questi video, questo ci tengo a dirlo, è che si vede appunto che condividi quella passione slash malattia, insomma, che accomuna un po' tutti quanti quelli che finiscono in questo mondo, però i tuoi video non sono un semplice, ok, ti mostro che ho tutta questa, che ho accumulato tutta questa roba e che sta là in vetrinetta o sullo scaffale, eccetera, eccetera, ma nei tuoi video traspare quella volontà di condividere proprio la storia che c'è dietro ogni oggetto. Diciamo che io faccio virare, diciamo, i video sulla collezione in quella direzione lì appunto perché a me personalmente in primis affascina di più la storia del singolo oggetto o comunque ciò che c'è dietro, il motivo per cui una cosa è fatta in un modo e non in un'altra o magari le differenze tra una e l'altra, piuttosto che dire semplicemente che ce l'ho. Perché per averlo basta spendere, farsi un attimo, roppersi le balle un attimo in giro, magari aspettando, certo, però purtroppo per certe cose spesso è solo una questione di soldi. Però ecco, la cosa a me che invoglia a spendere, quindi a collezionare, a continuare, a parlarne è proprio quello che c'è dietro, quello che c'è dietro, cioè tutta la storia magari della gig, oppure i motivi per cui un'azienda o un certo periodo degli anni 90 ha portato ad avere un certo prodotto piuttosto che un altro. E spesso, soprattutto negli anni 90, ci sono dei motivi che fanno anche ridere e poi magari escono anche delle storie divertenti che a me per prima hanno divertito, ecco quello è... Poi mi piace parlare, mi piace parlare e raccontare cosa stiamo, quindi questa è la primissima cosa, mi piace parlare. Direi che questo è un ottimo punto di partenza, diciamo. Però ecco, per confezionare questi video, come dicevi giustamente te, non basta semplicemente spendere o avere pazienza per trovarsi l'occasione giusta per recuperare un pezzo, ma bisogna studiare tanto, anche perché questa poi magari è una cosa che i più giovani non se ne rendono conto, ma come dicevi giustamente te, negli anni 90 la distribuzione era un inferno, cioè era qualcosa che non era affatto una cosa su scala globale, soprattutto in Europa che eravamo l'ultima ruota dell'ultimo carro praticamente, le cose arrivavano in ritardissimo, con grandissime differenze regionali, quindi è anche difficile capire magari come è composto un full set, cosa significa cercare di chiudere un full set, perché molto spesso le informazioni non ci sono, vanno ricostruite, delle cose vanno intuite, e questo nei tuoi video, insomma, si percepisce proprio, e a me emozionano proprio, cioè in senso positivo. Grazie. Però volevo un attimo fare, diciamo, un passo indietro, e correggimi se sbaglio, no? Mi sembri particolarmente ferrato, anche come insomma ci dice lo sfondo sulle console portate di Nintendo. In realtà, adesso ho visto che stai facendo dei video monotematici sui vari modelli di Game Boy, in realtà io penso uno dei primi video che ho visto, e anche uno dei primi commenti che se non sbaglio mi hai lasciato te sul canale, sono relativi al DS. Quindi volevo chiederti, innanzitutto, quanti anni hai e qual è stata la tua prima console che ti ha fatto avvicinare al mondo delle portate di Nintendo, che ti ha creato, diciamo, questa dipendenza, e poi soprattutto qual è stata la scintilla che ti ha trasformato da gamer, se prima eri gamer, non lo so, oppure sei stato subito collezionista. Cioè se c'è una storia che ti lega prima a questi oggetti, prima di iniziare a collezionarli. Allora, io ho 27 anni, sono nel 96. Collezionare in senso stretto lo faccio da tre anni, inizio quest'anno al quarto anno. Sei giovanissimo. Adesso sono abbastanza neofita sotto questo punto di vista. Però ecco, la cosa in realtà è iniziata molto tempo prima, non tanto come collezioni, ma più l'altro come scintilla. Io avevo questo ricordo di me all'elementari che chiedevo in modo ossessionato e compulsivo alla mia famiglia, a chiunque mi capitasse, di avere un Game Boy. Un po' perché ce l'avevano tutti i miei amici, un po' perché mi piaceva l'idea di poter giocare a Pokémon, che era quello che volevo in assoluto. Il Game Boy era il mezzo per giocare a Pokémon per Antonomasi. Il primo Game Boy mi arrivò molto tardi, abbastanza tardi rispetto ad altri, che in quinta elementare. Ed era l'advance trasparente bianco, grigio, quello uscito da noi, classico. Ebbi quella console per davvero tanto tempo, conta che la console successiva fu il Nintendo DS. Quindi tutto il periodo dell'SP e del micro io lo saltai, feci anni e anni con quel Game Boy, quando gli altri avevano già lo schermo interluminato, dovevo stare sotto il sole a guardarmi un pixel per capire cosa succede. Però mi piaceva tantissimo perché ci sono affezionato, ci ero affezionato. Questo Game Boy mi fu regolato dal mio fratello, che durante un'estate appunto mi regalò l'advance. Questo diciamo che fu la scintilla, ok? In qualche modo, a posteriori, ho capito che quella era la scintilla, perché io volevo il Game Boy ad ogni post. Poi dopo tantissimi anni, che anni fa appunto, quando ho iniziato a collezionare, un giorno mi sono trovato con due miei amici, senza un motivo in realtà, apparentemente quando ci penso mi chiedo ancora il perché. Chi me l'ha fatto fare? E avevamo detti, dai iniziamo a collezionare ognuno qualcosa, ok? Un mio amico decise di iniziare con le carte di Yu-Gi-Oh! Anche perché c'era legato, anche lui da bambino, insomma, c'aveva i suoi motivi. Un altro mio amico, molto più specifico di me, con tutto il merchandise e giochi di Medieville, un gioco della PS1, so se ce l'ho presente. Sì, sì, certo, certo. È perfetto, lì pure c'è un mondo da sapere. E io ho deciso inizialmente di, perché ero legato a Pokémon, di cercare giochi Pokémon sigillati. Non perché sapevo che il sigillato valesse di più, ma perché mi affascinava l'idea. Poi quando ho visto i prezzi ho detto, va bene, facciamo altro. Quindi inizialmente la cosa è iniziata con cercare i giochi sigillati, però non comprai mai niente. Siamo, scusa se ti interrompo, stiamo parlando già quindi di post-pandemia? Sì, poco dopo, non so farti un paragone, però sentendo come ne parlano tanti, probabilmente prima, sotto il punto di vista dei prezzi, era meglio, ecco. Io però non l'ho mai visto il prima, quindi mi sono abituato a questo range di prezzi. Comunque, io poco prima di iniziare a comprare le console, facevo shiny hunting, e cercavo gli shiny su Game Boy e su DS, e per questo motivo, senza l'idea di collezionare, mi ero riempito camera di tantissime console loose, tra DS ed SP e 3DS, quindi ne avevo circa una trentina in totale. Che usavo, non dico sempre, tutti insieme, però spesso usavo la maggior parte per cercare shiny, perché più se ne ha, più è facile trovarli. Poi quando mi sono accorto che di queste console esistevano versioni diverse, ecco lì, è scattato qualcosa, e che mi faceva dire, ma perché sono diverse? Anche quella più semplice, no? Però anche una grafica diversa mi fece dire, cosa c'è di diverso? Magari, non lo so, ho iniziato a informarmi, ed è stata una discesa libera, completa, in arrestata praticamente, fino ancora adesso, perché mi ha affascinato il mondo e le possibilità si erano scelte per decidere quali console pubblicare, no? Io parlo dei Game Boy, ma in realtà questa cosa è applicabile a qualsiasi console anche fissa. Quando ho scoperto la vastità di cose prodotte e i motivi per cui alcune cose sono uscite, mi ha totalmente rapito, quindi io non nasco tanto come videogiocatore, perché oltre ai Pokémon non ho un passato da videogiocatore in senso stretto, quindi nasco collezionista ma perché mi affascina il settore, mi affascinano i Game Boy in senso stretto perché mi piacciono esteticamente, mi piacciono per certi aspetti molto specifici, però non nasce la mia passione dal fatto che sono videogiocatore. Questa cosa un po' mi distacca da altri perché quando parlo magari certi titoli non li conosco, magari non ho esperienze videodudiche con certi titoli magari famosi del brand, dei vari brand, però comunque sto cercando di recuperare, di informarmi anche sui giochi, anche se sui giochi non ho proprio una passione in senso stretto. A me quello che affascina è proprio la console, il mezzo con cui giocare e tutto quello che può stare dietro alla storia di una console singola o di un singolo modello, ecco. Una delle domande che ti volevo fare era proprio ma il tuo collezionismo si limita alle console o ci sono anche i videogiochi? In realtà ha perfettamente senso che ti limiti agli hardware o magari al mondo Pokémon, non so, ma... Però la cosa particolare è che ti sei andato praticamente a infilare in un buco nero e hai scelto proprio la cosa più settoriale e della cosa più settoriale la cosa più costosa e difficile da... Soprattutto perché poi se vai per full set di sicuro hai determinate esigenze, cerchi il pezzo in un determinato modo e quindi non ti accontenti dell'use ma non ti accontenti neanche semplicemente di una cosa tenuta bene, la vuoi proprio perfetta almeno secondo i tuoi standard, no? Inizialmente era partita con... Me ne compro una boxata e le altre me le compro singole perché... Poi il problema è stato questo, ma poi se le compro lose, io come le appoggio sulla mensola? Come faccio? Dovevo comprarmi i piedistallini, però non esistono i piedistalli originali, dovrei comprarmi da altri siti. Vabbè, vediamo se li trovo con la scatola. E poi ho scoperto che averli tutti esposti con la scatola è impagabile, cioè è proprio bello, è proprio bello. A me piace tantissimo. C'è in realtà un singolo... C'è un titolo che in realtà colleziono come videogioco, anche lì molto specifico, che è Dragon Quest. Sono iper affezionato alla serie perché giocai all'8 quando ero piccolo su PS2. Ed è la cosa... Poi ci sono ritornato con l'11 su PS4 e il fatto di avere un RPG con così tanta mappa da guardare, così tanti collezionabili e in stile Toyama, anche lì vedersi tutti i librettini del Super Famicom con le illustrazioni di Toyama è davvero bello. Quindi sì, i titoli però colleziono soltanto quelli in modo stretto, sono molto sicurale e molto specifico. Pokémon quando capita, ma non ho la fissa di dover collezionare per forza Pokémon. Per fortuna. Per fortuna. Un dispositore da negozio. Non ho la fissa con Pokémon. Del titolo migliore Pokémon, tra l'altro. Quindi se ti dicessi qual è la console a cui sei più affezionato, mi risponderesti? Game Boy Advance primo modello oppure ce n'è un'altra? Perché io avevo intuito che avessi una passione per il DS abbastanza sfrenata. Se ti devo rispondere, qual è la console a cui sono più legato? È il DS, è il primo. Il motivo è... Penso ci siamo più motivi. Il primo di tutti è che fu quello che mi fu regalato in modo classico, cioè il genitore che per Natale ti regala la console con la sua scatola. Invece l'SP di mio fratello mi fu regalato durante l'estate, senza scatola, giusto per giocarci. Quindi ebbe un impatto emotivo, ma il DS fu proprio come deve essere fatto. Non so come spiegarti. È proprio l'apoteosi del regalo di una console, esatto. Mi fu regalata appunto la console, il primissimo DS in bundle con Nintendogs. E ci sono legato perché durante il periodo delle medie è la console che più di tutte ho giocato in assoluto. Aggiungi il fatto che potevi giocare i GBA, il fatto che potevi giocarci ai giochi DS, ovviamente. A me sembrava davvero bellissima per il fatto che fosse così grande. A me il Lite non piace tanto perché è troppo compatto. A me piace il fatto che sia un po' grosso l'interno di DS. Quella cosa mi piace davvero tanto. E mi ci sono affezionato tantissimo perché mi piace in tutto quello che è stato il DS. Quindi mi piace sia come console, sia dal punto di vista emotivo. Mi ci sono affezionato molto. Poi se devo farti una lista, di sicuro sotto c'è l'Advance perché è stato il secondo con cui ho giocato, però non ci sono legato tanto quanto al DS. è un fatto, anche se non ha avuto così tante esclusive, così tante varianti, cose. È un fattore di cuore, ecco, di pancia. E ho due domande, una molto difficile. Vai, sono prontissimo. Siccome prima hai parlato di avere, che c'è stato un punto in cui avevi una trentina di console loose sparse per casa. Sì. E ora vedo che adesso, insomma, hai rimediato abbastanza bene. E volevo chiederti, hai fatto un po' la cazzata che hanno fatto tutti quanti nel corso della vita a un certo punto di vendere roba di cui ti sei pentito tantissimo? Oppure scatole buttate dai genitori? O situazioni che, se ci ripensi adesso, pensi che se potessi tornare indietro mi prenderei abbastonate sulle gengive per fermarmi? Palesemente sì, ovvio. Nessuno può scampare a questo passaggio della vita, è un passaggio obbligato. Spesso con Pokémon Zaffiro, Pokémon Verde Foglia, che mi sono ricomprato subito, appena ho iniziato, qualsiasi li devo riavere. Ecco il primo DS appunto di Nintendogs, che ho dovuto ricomprarmi tutto con un nuovo perché non ce l'avevo più. E non è stato neanche facile, perché non è neanche un'edizione, che trovarla completa non è neanche semplice con Nintendogs, anche se è un gioco abbastanza semplice. Però sì, sia a livello di videogiochi, che a livello di giochi, mi ricordo di aver avuto tanti masters, i Motu, non so se li conosci, masters of the universe, figure, anche di quelle scatole mai più viste. Le scatole sono la prima cosa a morire quando sei piccoli, giustamente, non può che essere così. E a meno che non sia qualcuno in famiglia, o un amico che sia appunto un visionario in questo senso e ti dica no, tieni, non si sa mai che te le metto, te le tengo da parte io. Ci sono i miei amici che hanno ancora alcune cose, però davvero è molto difficile statisticamente che sia capitata una cosa del genere. Io ero nella parte della statistica in cui questa cosa appunto non è successa. ho perso tantissime cose. La maggior parte poi io ho provveduto a riprendermele da me dopo 15 anni. Però sì, è successo, è successo. Anche di recente, invece il rivendere, sai, quando si, di sicuro lo sai meglio di me, quando si colleziona, anche settorialmente, ma proprio quando si spendono tanti soldi, in un'unica direzione, comunque sono un impegno oggettivo, di vita, può succedere che magari durante i primi mesi, durante i primi anni, ci sarà quel momento in cui dici, cavolo, però chi me lo fa fare? Ci sono quei momenti un po' di down che ti fanno dire, non lo so, non sono convinto. Però quelle poche volte che è successo, non so, è bastato magari parlare con qualche altro appassionato, scoprire un'informazione nuova che subito mi tornava quella voglia di dire, devo averlo, devo sapere questa cosa, devo avere il pezzo che sto studiando, voglio vedermelo esposto quando mi sveglio la mattina, ecco queste cose qua, diciamo che mi hanno fatto tornare sui nari, però ci sono stati dei momenti in cui ci ho pensato, però penso sia normale, insomma. Però, sì sì, guarda, è normalissimo, però siccome ci sono passato anch'io in queste fasi, ti do un consiglio, quando c'è il momento di down, e dici vabbè, ma io lascio perdere, conta fino a 10, poi conta fino a 100, poi conta fino a 1000, e poi dopo ci ripensi, perché ho fatto anch'io delle cazzate proprio glamourose, pensaci sempre molto bene. E a proposito di questa cosa che stai dicendo, dello studio, del muoversi sempre, diciamo, in modo abbastanza oculato, volevo chiederti un po' quali sono stati i progetti di... perché alla fine la tua storia è pure abbastanza recente, io, visto tutto il ben di Dio che c'hai, pensavo fosse un pochino più articolata nel tempo, quindi ti volevo chiedere, quali sono i progetti che hai portato a termine fino adesso, e quali sono magari i tuoi prossimi obiettivi, se ne hai, insomma. Allora, alcuni rivisti sono finire le cose uscite in Italia, quindi le cose che mi riguardano più da vicino, quindi il Pocket, il Color, il DS, il DS Lite, di alcune sono appunto riuscito a finirle, perché ho deciso di farli ok boxati, messi decentemente con i miei criteri, però tutti italiani, quindi ho deciso di fare il full set magari dei Game Boy Color usciti in Italia, e poi le altre versioni, magari giusto le, come dire, le esclusive americane magari o giapponesi, eccetera. Quindi non ho impostato la collezione come un full set in ogni lingua, o comunque nelle lingue più importanti, altrimenti diventava davvero complesso. Ci ho pensato, fare il full set giapponese, full set italiano, full set inglese, però avrebbe voluto dire, sarebbe stato molto bello, però avrebbe voluto dire concentrarmi per anni e anni e anni su una console soltanto. Idealmente non mi faceva molto felice, non mi rendeva molto felice, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista appunto della collezione. Quindi ho detto, facciamole italiane, che a me poi la cosa della storia della giga affascina anche. Facciamo le italiane e poi vediamo il resto, poi se capita il pezzo magari ci si pensa, però non è, diciamo, la priorità. Prossimi progetti adesso sto cercando di, me ne manca solo uno, il full set dell'Advance uscito in Italia, il primo. Tu ho visto che hai l'argento, quello lo devo completare, per esempio. Quello viene indicato come plugin, ma alla fine è argento. E mi manca la console, però ce l'ho la scatola completa, mi manca poco, perché capita a volte, mi capita l'occasione, magari li compro a pezzi, non è lo standard, però se penso sia comodo così, può succedere che compri prima la scatola, i manuali e poi la console. E poi il DS Lite, il DS Lite è davvero complesso, perché in Italia ne sono uscite davvero tantissime. Ed il DS Lite ho deciso di, di prendere ogni bundle uscito, quindi non solo i colori. I colori meno male si trovano anche, anzi ne escono parecchi in vita, abbastanza recente. Ma i bundle, cioè le edizioni uscite con altri giochi insieme, italiane, sono davvero complessi. Io non pensavo quando ho iniziato, ma quando ho iniziato a cercarli, mi sono accorto di quanto certe cose non escano. Tipo il DS di Platino. Sai, i bundle non ce li ho presenti, sono, immagino principalmente, roba Pokémon. Non solo, in realtà anche di giochi del cavolo, sono usciti di Brain Training, oppure tutti quelli, tutti quei giochi legati a Brain Training, ce ne sono stati diversi, tipo la matematica, i giochi di logica, ok. Poi, tre di Pokémon, molto complessi da trovare, tra cui uno di Platino. Poi, quello di Professor Layton, lì, lì si va sul, lì si va su un ambito, che scotta, è molto, molto difficile. In inglese escono ogni tanto, ma in italiano è davvero difficile. Questa cosa è interessante, secondo me. Si parla di pezzi, come dicevamo prima, che basta spendere, oppure sono pezzi che non escono, non escono proprio. Perché io non penso ci sia questo mercato per il DS Lite di Brain Training, capito? E allo stesso modo, penso che quando esce fuori una cosa del Professor Layton, probabilmente chi la vuole, c'ha la ricerca salvata, quindi... Io non ho la ricerca salvata, io ho la ricerca salvata in generale per il DS, quindi mi faccio un po' stupire dagli eventi. Però statisticamente ho notato che in quattro anni si era uscito due o tre volte. Poi, non so, magari ho guardato nei momenti sbagliati, mi sono perso le occasioni, può essere, però nella mia esperienza personale l'ho visto uscire poche volte. In fiera non l'ho mai trovato, quindi mi faccio un'idea che non è facile in generale trovarlo. Quelli di Pokémon ancora meno, quelli di Brain Training, quelli lì in realtà ogni tanto escono, ma ogni volta hanno un problema. Magari hanno uno strappo, oppure non c'è il cartone interno, quindi dato che è più complicato completarli che aspettare trovarli nuovi, cioè nuovi messi decentemente, aspetto di trovarli completi, perché se li prendo senza cartoncino interno, trovare il cartoncino interno da solo, originale, è davvero impossibile. Nessuno vedrà mai un cartoncino interno da solo. Però sì, il Death Light è davvero una varietà che non mi aspettavo, soprattutto per quanto riguarda i bundle italiani. Non avevo idea. Oltretutto di ogni bundle, la maggior parte ci sono più versioni, tipo quello di Nintendogs ha più versioni, sia della versione Labrador che della versione Dalmata. È molto complesso. E niente aspetto, perché è un set molto lungo. Immagino per esempio che però, visto che la distribuzione ormai era già passata in mano a Nintendo, si parla comunque di varianti europei, non c'hai quella cosa pensata per il mercato italiano, sbaglio. No, no, le lingue sono completamente in italiano sul DSLight. Sui bundle, su... Allora, sui colori normali, le lingue diciamo che sono quelle europee, diciamo il multilingue europeo, quindi con la scritta EUR. Poi ci sono le versioni inglesi al massimo, con la versione UK, però per il resto d'Europa usciva sempre la versione multilingua, con l'italiano incluso. Per quanto riguarda i bundle, invece erano specifici di una lingua, quindi non esiste il bundle multilingua. Esiste il bundle italiano, spagnolo, francese, è quello che complica. È un inferno, anche perché sono dei bundle magari spagnoli che non sono usciti, che non fanno parte tendenzialmente del mio, del mio, del mio spettro di acquisto. Però se sono bundle usciti solo per la Spagna, allora tocca comprare. Al di là della console preferita, c'è il pezzo di cui vai più fiero di essere riuscito a recuperare? Paradossalmente, il pezzo di cui sono più fiero non è un Game Boy. Strano, ti faccio vedere, è un controller Xbox 360 che veniva dato, non si sa molto a riguardo, è un controller, adesso ti faccio vedere, Xbox 360 che veniva dato a X persone che erano registrate con Xbox Live. Per l'Italia ne è uscito uno, e poi era uscito anche per, tipo uno per l'Italia, uno per l'Inghilterra, uno per l'America, eccetera. però non si sa ancora come veniva deciso chi avrebbe dovuto ricevere il controller, è tipo un'estrazione fortunata di chi era utente Xbox Live. Si chiama Controller Xbox di San Valentino. È una scatola così, molto anonima. Qui in teoria c'era un adesivo sopra, si vede l'alone, vedi? Non ho idea di cosa ci fosse, perché è sparito e non ci sono foto riguardo. Ce ne sono stimati tre o quattro al mondo di questo. L'interno ha tipo un nastro, questa è la scatola, con la chiusura magnetica, vedi c'è il tuo Xbox qua, dei cuori in giro, tipo qua ce ne è uno, ce ne sono un po' in giro, anche qua ce ne è un altro. L'apertura è magnetica e dentro c'è tipo nel velluto, c'è questa lettera tipo in italiano, poi dentro è così, col velluto, qua dentro c'erano le pile e si trova così, c'è ancora la plastichina, quella da togliere quando lo compravi la prima volta, quando lo usavi la prima volta. Questo è il pezzo di più quadro orgoglioso perché mi rendo conto di quanto sia raro, però in senso stretto Game Boy c'è altro. È un pezzo magari che sono contento di avere più che altro perché l'ho trovato magari grazie allo studio. Questo invece mi è capitato, quindi se devo fare un parallelismo sui Game Boy mi vende molto difficile. Ti dico questo, guarda. Oh sì 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 sì, è questo, lo spiego anche per chi sta guardando la puntata sull'audio, è un Game Boy loose ma perché è uno di quelli, non so bene com'è la nomenclatura, c'è un'edizione speciale, ovvero è uno dei Game Boy classici, pocket classici, però con un adesivo attaccato solitamente in basso. Vai, vai. Non è un adesivo, è stampato. Qui la ditta Thomas & Betts ha stampato il proprio logo su un tot di console nel fine degli anni 90, al fine appunto di promuovere la propria ditta tramite la distribuzione dei Game Boy che erano super di massa pop. Era un modo di comunicare molto in voga, soprattutto in America, da noi un po' meno, però di stampare il logo della propria ditta o di qualche evento o di qualche cosa, anche di film, di titoli dei film, tramite, cioè appunto stampandolo sulla scocca di Game Boy. Spocket, Color, il primo, il Light, anche qualche volta, il DS Lite. In questo modo le ditte riuscivano a far conoscere il proprio nome alle masse, che magari non sapevano chi fosse l'azienda, però lo trovano nei negozi, lo vincevano con premi, eccetera. E la cosa bella di questi tipi di Game Boy che ce ne sono tanti, ma ognuno con la tiratura molto bassa, è che appunto avendo la tiratura così bassa è molto difficile trovarli e spesso i prezzi non sono amici. Ecco, sono stato molto fortunato e da quel giorno l'ho trovato, in realtà l'ho visto uscire un po' di volte in vendita, perché questo è uscito in Germania e quindi è abbastanza vicino geograficamente anche da noi in certi punti d'Italia, però appunto i prezzi non è sempre stato facile avvicinarli, costano più di console magari mint, però normali. E non so se ho detto, questo magari mi corregge, non so se ho detto una cavolata, ma alcuni di questi Game Boy speciali avevano l'adesivo invece? Non erano stampati, o sbaglio? Alcuni sì, sono pochi, sono una minoranza quelli con l'adesivo. Il più famoso di tutti in Italia penso sia lo Slam, il Game Boy Color Slam, quello della pubblicità con Pikachu che diceva appunto che se tutto sotto il tappo dell'aranciata Slam avessi trovato la S di Slam e potevi vincere questo Game Boy Color della Slam. In questo caso il logo della Slam era un adesivo. Questa cosa complica drasticamente il ritrovarlo adesso perché dopo 30 anni l'adesivo sparisce proprio di default, c'è proprio un countdown e sparisce l'adesivo. Quando ci sono gli adesivi è molto complesso, è molto molto complesso perché anche se il seriale può dare informazioni, non hai mai la certezza. Mi rendo conto che quelli sopravvissuti siano dei miracoli, insomma, è davvero difficile. La colorazione in realtà è una colorazione comune a cui hanno appiccicato sopra un adesivo o almeno la colorazione era particolare di questo Slam? Ecco, qua è un bel capitolo. La colorazione è un Game Boy sia davanti che dietro completamente arancione e trasparente che non è una colorazione classica, però erano già usciti due versioni del Game Boy Color con questa colorazione un po' più comuni che sono il Mirinda uscito in Sud America e lo Yedigun che è sempre Mirinda ma per la Turchia e si chiamava Yedigun. In pratica questa marca di aranciata che da noi si chiamava Slam ma a seconda della regiografica cambiava nome e da noi era Slam in Turchia era Yedigun eccetera. In Giappone è uscito un colore simile come colore più o meno base, diciamo così. Era arancione davanti ma dietro nero trasparente. Questo qua è davanti arancione però dietro è nero. Il dietro è nero trasparente. Però il tipo di arancione davanti trasparente è lo stesso dello Slam e degli altri due. Però è un esclusivo appunto sudamericana italiana e turca. Per ribadire il fatto che c'è una cosa a cazzo di cane. Sì, sì, sì. Distribuzione competente. Dello Slam appunto appiccicavano l'adesivo sul logo Mirinda. Se tu staccavi il logo Slam l'adesivo sotto era un Mirinda normale. Quindi in Italia alcuni Mirinda escono ogni tanto anche se non era adesivo solo italiano ma sudamericano presumibilmente perché erano quelli della Slam però senza l'adesivo non si può verificare anche se il seriale è vicino. È un po' complesso. È molto difficile. C'è soltanto uno conosciuto di Slam al mondo con ancora l'adesivo. Ed è rimasto in Italia oppure c'era qualche collezionista? È in Australia. Non voglio sapere. Non ha senso. Quello è uno dei miei sogni da collezionista davvero perché quando l'ho scoperto mi sono innamorato della storia poi del fatto che è italiano. A me le cose le console legate non è una cosa patriottica però per qualche motivo mi affascinano tantissimo le storie italiane di Game Boy ce ne sono tante. C'è qualcosa che mi fa dire le voglio più di altre di Fiorentina lo Slam ce ne sono tante. Ti voglio far vedere un'ultima cosa per chiudere che è uno dei DS normali il primo DS più particolari che girano della versione base diciamo così. E questo è il pezzo che ti invidio veramente. E ti aggiungo anche la completezza. Questo qua è il Nintendo DS che fu distribuito al lancio del Nintendo DS appunto il 18 aprile 2006 fu distribuito in Italia in Francia e in Germania mi pare e anche in Inghilterra. Di ognuna di queste ne furono prodotte mille per stato quindi in Italia ne sono uscite mille in Francia mille e così via. Questa è la versione italiana e dentro semplicemente aveva Super Mario DS gioco completo poi il Metroid demo che dentro ha messo la demo americana avevano quella probabilmente in magazzino e WarioWare Touched sempre demo. Ed è l'unico è l'unico posto dove si trova la demo di WarioWare Touched. Niente, è l'unica console DS Game Boy in realtà con tre giochi inclusi anche se su lui sono demo di fatto però sono giochi e una cosa curiosissima di questo la confezione base del Nintendo DS ha l'immagine del Nintendo DS spostata al centro con la classica questo invece ha il Nintendo DS spostato da un lato nello stesso periodo o meno poco prima poco dopo uscì la versione bundle di Metroid da solo io sono riuscito a dimostrare praticamente nel tempo che loro quando produssero distribuirono questo V-Pack si chiama appicciarono l'adesivo sul logo di Metroid quindi di fatto quando si compra questo si paga l'adesivo perché la differenza unica è che ci sono beh i giochi in più chiaro certo però di fatto hanno attaccato l'adesivo del V-Pack sopra il logo di Metroid che era stampato e infatti se si può vedere sui contenuti della scatola risulta soltanto Metroid per l'uscita francese di questa console è solo in Francia quindi in Italia non è mai uscito quindi è solo mille pezzi fecero uscire questa maglietta e la maglietta V-Pack è uscita solo per la Francia e questa appunto è la versione che la maglietta era solo in Francia perché negli altri stati la maglietta non era prevista e infatti è V-Pack come il DS questo ci deve andare in fiera orgogliosissimo fierissimo proprio che vai in giro a Nintendo DSP non flexo mai però mi dici che potrei potrei però non lo fa potrei continuare per ore penso ma ti lascio anche andare ti ringrazio tantissimo invito tutti quanti ovviamente ad andarsi a vedere i tuoi video perché non lo so io ripeto a me ipnotizzano abbastanza certo bisogna essere malati di Game Boy ma in realtà non solo perché poi hai fatto anche delle delle retrospettive diverse anche all'infuori del mondo gaming cioè quello sulle Laming Cards insomma direi che se uno è un minimo malato di collezionismo nostalgia degli anni 90 di sicuro trova trova roba roba interessante sul tuo canale che diventa poi anche una fonte di informazioni per un ambito che è bazzicato da molti ma poi capirci qualcosa andare a fondo lo fanno veramente in pochi e quindi insomma è anche un bel servizio davvero gentilissimo è stato a me fatto un botto piacere uno che ti sei interessato così tanto alla mia collezione a sentirmi parlare raccontare le cose perché te l'ho detto a me piace parlare raccontare la mia passione soprattutto con persone che la condividono come te e il fatto di avermi dato appunto questo spazio nel tuo canale che insomma non è cosa da poco ma apprezzo davvero tanto anche la fiducia e il posto che mi hai riservato quindi grazie ancora dai dai va bene allora di nuovo grazie mille le occhio link giusto su youtube ho scelto è il nome di me l'ho detto il mio fratello da piccolo è il mio nome è difficile va bene Leo va bene Leo va bene dai ci vediamo presto ciao Michele grazie ancora gentilissimo grazie ancora a presto ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a Grazie a tutti.